Quindi stiamo visitando questo hermitage in Abruzzo bisogna scappare dentro Vi ho incontrato questi ragazzi abruzzesi Concludiamo in bellezza Siamo a De Contra un piccolo paesino vicino a Caramanico Derme e siamo a beniziare il cammino che ci porterà all'eremo di San Giovanni all'Orfento Ah poi ho preso un bagnino con la porchetta e me lo sto mangiando giusto per un po' di proteine lungo il percorso proteine e carboidrati Ecco lungo la via ho incontrato un pastore con le capre Allora ragazzi stiamo iniziando questo percorso e non c'è nessuno non c'è nessuno guardate Sono tre ore andata e tre ore ritorno più o meno vediamo come va ma che bello mi ha appena chiamato nonna ha detto vieni mangiare i gnocchi ha detto nonna non sto in montagna ma dai ervi ha detto no nonna non posso oggi montagna niente gnocchi in gulapia ci sono fontane come questa così si può rinfrescare fare una piccola sosta e ammirare la natura stiamo scendendo mancano una tattia di minuti ma è davvero facile basta seguire il percorso il sentiero e poi si viene questa segnaletica sugli alberi bianca e rossa guardate che strapombo guardate che strapiombo prima di arrivare all'eremo si è soffrite di vertigini eh qua wow no mamma mia guardami guardami così wow ma ci abbiamo passato tutti io tutti ho riuscito dai ci mancheremo ci mancheremo quando vai all'interno è molto piccolo e devi siedere e scurri dentro se non ti puoi cascare 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 no 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 è vero è vero è vero è vero è vero sono è vero ecc fai far fai la mattina si è alzato che non trovava dice ma dove sto non trovo il bagno dice no andate grazie a tutti il segretario non è che si guarda come questo allora oggi eravamo a visitare l'ermo di San Giovanni non ci sbagliamo l'ermo di San Giovanni abbiamo incontrato questi ragazzi abruzzesi Doc che hanno portato una bottiglia di spumante e adesso concludiamo in bellezza hanno offerto un bicchierino di spumante Guirino, Massimo, Luca grazie ragazzi per lo spumante vi aspettiamo in Abruzzo we wait for you in Abruzzo se amate la natura Abruzzo è per voi grazie 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 grazie